Noi abbiamo un sistema contributivo un attimino diverso per i parlamentari regionali, abbiamo molte chiamate all'interno del trattamento economico che possono essere rifiutate. La parte dell'indennità, ci siamo informati direttamente alla ragioneria della regione sigiliana e possiamo restituire la parte eccedente proprio con un assegno e possiamo dedicarla direttamente a dei capitoli di spesa particolari, per cui diventa interessante il fatto che veramente i nostri deputati regionali non percepiranno e non toccheranno quei soldi in più rispetto ai 2005 che abbiamo sbandialato durante la campagna elettorale. Stavo rispondendo perché mi arrivano un po' di mail relativamente a quello che è stato detto in televisione, per cui stavo cercando di fare un po' di chiarezza ancora e dicendo a qualcuno che mi contattava dicendo che praticamente non prenderemo evolumenti oltre i 2.500 euro. Tra l'altro vedo che c'è un post di Michel Nero che dice che hanno parlato con il funzionario regionale e a quanto pare anche in regione Emilia Romagna è possibile tornare indietro i soldi con un assegno, vi invito l'Emilia Romagna a verificare questa ipotesi perché potrebbe essere la soluzione.